Buona vittoria oggi del Perugia a Lecce per due reti a zero. Mi è sembrato più di una sgambatura questa partita, cioè il Lecce comunque sia ha opposto una buona resistenza. Sì, sì, no, vabbè, il Lecce è una buona squadra, noi abbiamo fatto una grande prestazione, una bella prova di continua, diciamo, risultati positivi, quindi abbiamo fatto una bella prestazione. Abbiamo visto sulla fascia un grande Insigne nel primo tempo che ha dato il là, diciamo, al vantaggio perugino. Comunque sì, ecco, mi è sembrata una buona prova di tutta la squadra. Sì, sì, tutti quanti abbiamo fatto una grande prestazione, a livello fisico siamo tutti bene, quindi come grinta, ci abbiamo messo tutto, come se fosse una partita vera. Insigne è stato bravo ad aprire le danze con il gol e con il suo gol, abbiamo fatto una bella partita. Anche Fabinius e Moscati che sono entrati nel secondo tempo, abbiamo visto che a quel punto il mister ci teneva a portare a casa il risultato e mi è sembrato che abbia, diciamo, rafforzato ancora di più la squadra con questi due innesti. Sì, sì, chi entra fa sempre bene in questo momento, quindi noi siamo 22 giocatori, 23 quelli che siamo, chi entra sa che deve far bene, deve dare il massimo per portare a casa i risultati e per dare una mano ai compagni che sono in campo. Quindi siamo bravi tutti e bravi tutta la squadra. Ok, grazie. 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 Grazie.